Il pensiero che... conviene. La moglie mi dice che si va a ziuso, basta che una femmina vi deve passare subito da guarda e con l'occhio malizioso da volerci mangiare. Questo vuoi dire solo, non ti abbastare. Non ti abbastare io, e non mi abbastare no. E che ci posso fare? Non è come si dice mancanza di affezione, di affetto, di rispetto, quello è tutto un bisogno naturale che l'uomo o il maschio, bene o male, grazie a Dio conserva per natura, da che è stato creato. E finché è dura, la femmina non le piace, perché? Perché ci trova quel certo che di fascino, quel certo che di cosa, che l'uomo per dare un numero e sa sposa. La moglie è un altro affare, è una cosa solita. Materialmente è un piatto di carne che il marito ha gustato, che gusta, che può gustare, ma ogni tanto, dici ma la verità, la qualità di carne si può pure cagliare. Una volta manza, una volta carne a necchia, una volta pitella. insomma, mi pare giusto cambiare un poco gusto, sino sembra chella, chella, chella.